E' uno dei cantieri strategici della Bicipolitana, perché unirà la rete ciclabile pesarese al progetto della ciclovia adriatica e perché di fatto collegherà a portata di pedale due quartieri altrimenti scollegati come Vismar e Torraccia. Avanza infatti il cantiere che prevede la costruzione di un tunnel ciclopedonale fra le due zone, che dalla ciclabile di via Lambre e via Liri di Vismarra sfocerà a Santa Colomba dopo aver scavato una galleria sotto la rete ferroviaria. Il cantiere è stato affidato, è partita già la prima parte dei lavori, abbiamo fatto la verifica bellica che non ha evidenziato nessuna criticità. Il progetto adesso è in mano a ferrovie perché trattandosi di un sottopasso ferroviario dobbiamo avere l'ok da loro rispetto ai tempi di realizzazione perché non è che dipende dal comune quando scavare sotto la ferrovia. Noi dobbiamo aspettare da RFI l'autorizzazione, ci devono dare un tempo in base a quelli che sono i cantieri che hanno in piedi lungo la tratta adriatica, presumibilmente sarà tra aprile e giugno i lavori. Noi nel frattempo intanto però iniziamo e prepariamo il manufatto che poi andrà ad essere posizionato sotto la linea ferroviaria. Diciamo che il lavoro più importante è quello sotto la linea ferroviaria, anche se i tempi dovrebbero essere attorno alle due settimane. Però sono quelli che hanno bisogno di un'autorizzazione più importante, dobbiamo capire anche quelli che sono i costi che ci chiederà RFI per il rallentamento dei treni.